un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di limbo l'ultima volta siamo rimasti su questa catena pavimento elettrificato e questo dispositivo che la manda avanti allora io adesso bisogna un attimo capire secondo me si deve far dondolare poi lanciarsi attivarla e cercare di prenderla vediamo facciamo così andiamo dietro attiviamo e ora vai più giù e salta vai a posto poi scendiamo giù che succede si può spingere allora spingiamola si aggancia e cosa diamine accade tutto si sta piegando attenzione in pratica siamo su un qualcosa che sta scendendo vediamo un attimino dove andremo a finire allora continuo a ruotare o cazzo adesso bisogna andare sicuramente di là salire su uno di questi ovviamente saltare qua ok allora no calamita ah quella è una calamita ok allora bisogna fare così risalire su nooo torna qui ok 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 allora questa calamita dovrà fare qualcosa va sempre di là va sempre di là quindi la liberiamo facciamo così scendiamo giù mettiamo questo qua perché non si sa salta subito ok allora vabbè boh ovviamente ci si riesce così via 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 ok pensavo la calamita c'entrasse qualcosa con il dispositivo invece no allora la cala che gira tiriamolo qua facciamo così sale che succede ok 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 allora adesso ci farà sicuramente passare dall'altra parte ah però di là è elettrificato quindi sganciati sganciati adesso sicuramente andrà verso la ruota dobbiamo oh ce l'ho fatta ora saltiamo qua scendiamo giù perfetto ora andiamo di là andiamo di là che succederà quando tiriamo la leva cadrà la scatola cadrà la scatola il masso ci rotolerà addosso allora no siamo morti siamo morti siamo morti spingi 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 oh la dovevo usarla per ci dovevo saltare sopra allora c'ho così spingiamo la leva tipo la musca si è buggata vediamo prendo oh fermati non mi uccidere vediamo la scatola la spingiamo ci saliamo sopra perché non appena questa cosa la farà scendere e invece no e invece proprio no ok spingi la leva scende giù la scatola io ora la spingo più possibile più possibile più possibile e il più velocemente possibile ok vai 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 perfetto easy andiamo di qua qua e andiamo attenzione cosa è questo oh no il vermaccio il vermaccio allora facciamo così facciamo così andiamo di qua o forse dovevo scendere lì sotto no la luce è qua quindi frigge e scappa dall'altra parte ok 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 schiacciate le mani ok qui che devo fare devo aggrapparmi e poi lanciarmi rimane aggrappato salici salici non ti puoi buttare no ok 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 devo salire su una scatola sali su una scatola aspetta un'altra scatola altra scatola merda andiamo un po' più indietro ciao così ok perfetto siamo dipincolati da quel vermone ok scatola noi andiamo avanti salendo sul rotellone poi sul rotellone però ci dobbiamo salire di qua tirare sicuramente questa leva che blocca anzi dall'altra parte manda dall'altra parte inverte gli ingranaggi quindi saliamo qua oh no andiamo a bloccarlo salire prima che cambia il giro e poi saltare qua ok ora non dobbiamo rimanere schiacciati assolutamente da quella cosa di qua easy proseguiamo proseguiamo vediamo un po' tiriamo giù la leva mi sto dondolando in qualche modo mi sto dondolando in qualche modo mi sto dondolando in qualche modo allora allora vediamo un po' che cosa cosa ci aspetta perchè c'è quella cosa lì vediamo tiriamo indietro questo carretto perchè c'è tutta questa cosa allora allora possiamo spingere e risalire qua ok ho sbagliato sono un pirla come si riavvicina saltiamo sopra ebbene no mmmm facciamo così aspettiamo che torna fino tutto indietro vai e uno due perfetto vediamo un po' che cosa c'è qui vediamo un po' cosa c'è qui entriamo nell'oscurità più oscura e direi di non lasciarci scappare questa scaletta oh shit dovevo stare più indietro va bene stare più indietro quando salgo ok va bene ora vediamo un po' cosa ci aspetta cambio di piano cambio di piano ah ah ok mi devo aggrappare dietro che devo fare cambio di piano ma no devo semplicemente fare così da una lieve scarica che però ci permette così ritirare indietro il carretto e risalire perfetto ah vediamo un po' wa the fuck aaaaaah dobbiamo fare così aah no evidentemente no vai 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 vaiacular corri 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 e salta vaffanculo di ho fregato ok non si vede niente andiamo di qua prima che ci cade addosso quel masso cosa c'è di qua cosa c'è? marda 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 una scala saliamola lì qualcosa esplode no no marda qui dove sta la scala ok la sono riuscita a prendere adesso qui bisogna aspettare un bel po' un bel po' perché dobbiamo ok adesso si vede che dobbiamo saltare qua una scatola non bisogna saltare sicuramente a sinistra che è elettrificato quindi a destra e a destra che facciamo? a destra saltiamo qua che è successo? lascia guidare le scintille lascia guidare le scintille e un par di balle proviamo ad andare giù mettiamo questo cono alla luce ecco bisogna buttare questa scatola qua sotto e andare giù perfetto mi voleva mi voleva fregare ok andiamo un po' e qui siamo a un nuovo nuovo enigma ma direi che per questo video ragazzi è tutto ci fermiamo qui per adesso quindi vi invito a lasciare un bel like e un commento fatemi sapere un po' che cosa ne pensate e di questa serie io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video